Si susseguono in questi giorni gli appelli per sensibilizzare la comunità alla donazione del plasma. Ma perché è così importante averne una costante scorta? Con la trasfusione è possibile trasferire gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 sviluppati dai pazienti guariti a quelli con infezioni in atto che non ne abbiano prodotti di propri. Gli anticorpi, conosciuti come immunoglobuline, sono proteine coinvolte nella risposta immunitaria e vengono prodotte dai linfociti B in risposta ad un'infezione e aiutano il paziente a combattere l'agente patogeno, ad esempio un virus, andandosi a legare ad esso e ne traurizzandolo. Tale meccanismo d'azione si pensa possa essere efficace nei confronti del SARS-CoV-2, favorendo il miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione, quindi, dei pazienti. Il plasma prelevato dai soggetti convalescenti è stato utilizzato in un recente passato durante le epidemie di SARS nel 2002 ed Ebola nel 2015 e negli ultimi mesi sono stati pubblicati su diverse riviste scientifiche i risultati di alcuni studi clinici internazionali ed italiani. Inoltre, diverse sperimentazioni cliniche in corso nel mondo stanno cercando di verificare se la terapia con il plasma iperimmune sia efficace. Al momento non ci sono però evidenze scientifiche conclusive sull'efficacia di questa terapia e pertanto essa è da considerarsi al momento sperimentale. L'eventuale efficacia della stessa potrà essere dimostrata solo dai risultati di studi clinici che mettono a confronto pazienti trattati con plasma iperimmune e pazienti trattati con alta terapia, ovvero i cosiddetti trial clinici randomizzati.